Ben ritrovati e ben ritrovati! Beh, la giornata di ieri è stata importante perché ha portato in dono il terzo innesto targato Juventus in questa sessione estiva 2024, dopo Di Gregorio e Douglas Lewis, ecco che Frenturam, accordo totale tra Juventus e Nizza sulla base di 20 milioni, più potenzialmente altri 5 di bonus, alcuni infacili da raggiungere, altri no, al calciatore è stato garantito un contratto fino al 30 giugno 2029, da 2 milioni e mezzo netti a stagione, ecco la sostenibilità, ecco la competitività, perché la Juventus con questo innesso si garantisce un giocatore, dal punto di vista della grafica ho ancora ragione, ma che gioca da tantissimo tempo, che ha già dimostrato tutto il suo valore, nella Ligan e quindi è un giocatore pronto, poi dovrà ampliare un po' gli orizzonti tecnico-tattici perché la Serie A è un campionato differente, ma come già ho avuto modo di dirvi a più riprese negli ultimi giorni, lui con Farioli, l'ex tecnico nel Nizza, ora allenatore dell'Ajax, ha secondo me ampliato il suo bagaglio tecnico, imparando a fare delle cose tecnico-tattiche che li torneranno sicuramente utili in questa sua avventura italiana. Tutti coloro che hanno visto Turam giocare nel Nizza nell'ultima stagione mi stanno ripetendo la stessa cosa, ovvero sì, in termini di assist è numero decisamente meno spettacolare rispetto alla fase embrionale della sua carriera, ma un giocatore più solido, un giocatore che anche nel lavoro sporco ha iniziato a eccellere perché ha imparato determinati movimenti che sicuramente verranno perfezionati con Tiago Motta che sappiamo che con e senza palla pretende determinate cose. Ho letto anche delle ricostruzioni, ma la Juventus evidentemente ha speso tanto. Di cosa stiamo parlando, amici e amici, cioè basta andare su Google, digitare che frem tu ram, andare alle notizie dell'estate 2023 e si può constatare come il suo nome fosse accostato a tantissime grandi società, anche inglesi, penso a Liverpool, con una valutazione che era esattamente il doppio di quella che poi porta questo calciatore nel capoluogo piemontese. La Juve riesce a prendere questi soldi, vuoi? Perché sì, è vero, non ha disputato una stagione dal punto di vista dei gol, degli assist, delle giocate magari non eccessivamente entusiasmante, perché sappiamo poi come evidentemente poi le società si facciano anche attirare da questi ingredienti. Ma la Juventus riesce a prendere tu ram questi soldi perché A si muove con tempestività, B non ha tergiversato e C ha seguito per tantissimi mesi i calciatori. Cioè noi non possiamo far passare il messaggio che la Juventus riesca ad assicurarsi Douglas Lewis e tu ram perché non c'era concorrenza. Questa secondo me è una tisana. Poi sappiamo perfettamente che quando la Juventus riesce a portare a casa determinati calciatori non è stata brava lei, bensì non c'era concorrenza, mentre magari se questi calciatori fossero finiti ad altre top team su scala internazionale si elogierebbe il general manager di turno. Ci vuole equilibrio. Poi non è detto che faranno faville alla Juventus, noi speriamo vivamente che invece questo possa accadere perché significherebbe finalmente avere nuovamente un centrocampo del livello juventino che non abbiamo più onestamente del 2017. Ecco, senza scomodare Berlino 2015, se vogliamo Cardiff 2017. Da lì in poi una continua regressione con la Juventus che ha davvero faticato e mi sembra che da questo punto di vista a livello qualitativo ma di costruzione del settore negli ultimi due anni abbia toccato davvero, ma davvero il fondo. Quindi per quanto riguarda che Frenentura siamo tranquilli, tutto fatto, terzo colpo. Ma ora arriva il bello perché qualcuno mi può dire, ah come, non è già questo il bello? Sì, ciò che è stato fatto finora non va sottovalutato e tornerà sicuramente utile per costruire le basi di una Juventus forte, ma la Juventus non si vuole fermare qui. Ora, sapete come il sottoscritto abbia tantissimi difetti ma credo di avere un pregio con voi. Non vivendo sogni, non vivendo fuffa. Se una cosa non dico che mi risulta a favore di click, di views, di commenti, di follower, no. Io con voi voglio essere sempre onesto perché voi state premiando il mio lavoro qua su YouTube con una crescita esponenziale, per questo vi ringrazio enormemente e quindi il minimo che io possa fare ai vostri confronti è essere un giornalista onesto. Se vogliamo su YouTube siamo creator, un creator onesto. Ma su Copp Maners io ho ancora segnali di una Juventus decisamente sul pezzo perché credo che sia quel calciatore che Tiago Motta vorrebbe per alzare ulteriormente il livello qualitativo non solo il centrocampo ma proprio dell'organico perché mettiamo caso che la Juventus dovesse giocare 4-2-3-1. Poi vedremo, e come vi dico spesso, Conti a Gomotte impareremo a parlare più di spazi che di numeri. Copp, se la Juventus riuscisse a prendere l'Atalanta, sarebbe il trequartista, sarebbe quel calciatore che poi va a collegare sepientemente l'attacco al centrocampo. È un tuttocampista, un giocatore che sa quando abbassarsi, un giocatore che ha assist, un giocatore che ha gol, che ha movimenti. Basti vedere poi la doppietta che ha rifilato allo stadion. Non ha neanche troppo tempo in là, pregevolissima, cioè in termini proprio di movimenti. E la Juventus evidentemente a fuoco lento, per fuoco lento può significare tutto e niente, cioè con i giorni che ci vorranno vuole giocarsi le sue carte. Poi non è detto che giocarsi le sue carte sfoci automaticamente nell'acquisizione delle prestazioni sportive dell'olandese. Ma cos'ha la Juve che la può portare a pensare che questa cosa si possa fare? Il gradimento del calciatore, perché da quello che abbiamo ricostruito con la relazione del bianconero, la Juventus per Cop Maners non è piazza gradita, è graditissima. Anche perché si vocifera che anche in termini di famiglia, di vita privata, preferirebbe, se fosse possibile, rimanere in Italia. Ecco, ovvio che devi fare i conti con l'Atalanta, che è un nostro durissimo e che credo che sia la società più abile a vendere i suoi calciatori, ma non solamente in Italia. L'Atalanta parte da una richiesta di 60 milioni, la Juventus è partita con le sue valutazioni attorno ai 40, è chiaro che la forbice così sembra incolmabile. Però cosa può accadere? O che si trovi la chiave giusta inserendo in trattativa separata un calciatore, quello che è successo con per esempio la Stonevilla, nell'ambito della trattativa che poi ha portato Ealing e Barencea a Birmingham, oppure la Juve, e penso che questa sia la strategia del momento, quantomeno in questo 3 luglio, in fase di studio, e consiste nel vendere, risparmiare su determinati ingaggi, per poi fare quel gruzzoletto che ti possa portare magari a intrigare sensibilmente l'Atalanta, farla vacillare. Quindi dire che con gli acquisti di Douglas Lewis e di Turam dobbiamo dare per scontato che la Juventus non vada più su Coppo Mainers, a me questa cosa non risulta. Poi rispetto a tutti coloro che hanno anche magari versioni differenti da quella che vi sto raccontando io, ci mancherebbe altro, ma a me risulta che fin quando si potrà lavorare su questa traccia la Juventus lo farà e abbia già iniziato a studiare un modo per poter arrivare a un'offerta che possa essere potenzialmente soddisfacente per il club orobico. Giuntoli ci riuscirà, non ci riuscirà, questo lo racconteremo, qua facciamo cronaca, e la cronaca sta proprio anche intensificando la creazione di video da parte del sottoscritto, perché siamo arrivati a una media di tre video quotidiani, ma tutti con notizie, perché se non c'è roba da dire io non voglio fare video. Però io su Coppo continuo a tenere gli occhi molto aperti, perché i segnali che ho avuto ieri mi portano a pensare che la Juventus la voglia giocare. Mentre su Calafiori è più complicata, su Calafiori è più complicata, quantomeno stiamo parlando sempre del mercato del 3 luglio, oggi è il terzo giorno ufficiale di mercato, nonostante a giugno si fosse fatto mercato e anche in maniera piuttosto sospedita, però in termini tesseramenti come ben sapete si possono effettuare solamente dal primo di luglio. Su Calafiori invece ci sono delle squadre inglesi che stanno lavorando su questa traccia, il Bologna continua ad alzare questo muro che poi mi piacerebbe capire un po' più nello specifico, cioè io su Calafiori poi torno oggi pomeriggio, ve lo dico subito perché facciamo un video mirato con quali sono le squadre inglesi che hanno chiesto informazioni, qual è la cifra che chiede il Bologna attualmente e qual è l'orientamento della Juventus, che però già un po' vi spoilerò in questo video, ma sapete perfettamente cosa faccio a riferimento. La Juve ha oltre a tot, cioè si parla di 50 milioni, la Juve Calafiori non lo prende, però non capisco evidentemente anche la posizione di Bologna, attenzione, business is business, il Bologna deve riconoscere più del 40% del profitto al Basilea e quindi è normale che spari alto anche dopo a livello individuale un buon europeo, un ottimo europeo se vogliamo da parte di Calafiori, perché anche quando ha fatto l'autoretta per me ha disputato una buonissima partita. Però se uno sente un po' l'umore della piazza Felsinia, sembra che Calafiori possa andare ovunque tranne Cala di Juve, perché c'è lo sgarbo di... ma quale sarebbe lo sgarbo effettuato dalla Juventus nei confronti del Bologna sul fronte di Tiago Motta? Tiago Motta era un allenatore che andava in scadenza, quindi non si è neanche dovuto liberare, Tiago Motta a un certo punto aveva determinati progetti in ma, italiani ed esteri, e ha scelto legittimamente di sposare quella che ritiene che possa essere la migliore avventura professionale per continuare ad alzare la siccella della sua carriera. Legittimissimo. Cioè, a me risulta che Tiago Motta abbia portato il Bologna in Champions dopo 60 anni. Qualcuno mi dice no, no, in merito di Sartori, no, in merito della società, no, in merito di Zirzè, no, in merito di Calafioli. Io continuo a pensare che tutti bravissimi, per carità, ma colui che ha fatto il miracolo facendo crescere il tasso qualitativo di questi calciatori, lavorandoci a livello tattico, a livello di personalità, l'artefice di questo miracolo si chiama Tiago Motta. E nessuno cambierà la mia idea, la mia opinione, anche qualora dovesse fallire la Juve, sarebbe un'altra storia. Intanto resta quella di come Tiago Motta abbia preso il Bologna e di come lo abbia lasciato. Vedremo chi riuscirà a fare meglio, perché mi sembra che qualcuno qui, accecato dal livore nei confronti della Juventus, abbia iniziato un po' a sbarellare. Sembra che sia passato un allenatore un po' così. No, è passato uno degli allenatori migliori della storia del Bologna. Io non è che sia, la rispetto totalmente, ma non è che sia un profondissimo conoscitore della storia del Bologna, ma conosco bene da quando sono nato, quindi ormai da 35 anni quali siano stati i campionati del Bologna. E questo, se torni in Champions dopo 60 anni, significa che Tiago Motta nella tua storia è stato molto più incisivo dei dirigenti, dei calciatori e di tutta la piazza. Comunque, se si vuole fare questo braccio di ferro, legittimo, il mondo è pieno di difensori. Calla Fiori è sicuramente fortissimo, ma non è l'unico mancino al mondo e non è l'unico mancino, evidentemente, che se dovesse arrivare alla Juventus potrebbe fare bene. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e le notifiche lasciate un bel like.